Il nuovo buon viaggio da Firenze Smart Mauro Ciutini. 4 km in diminuzione sulla 1 dopo l'incidente tra Baldarno e Incisa Reggello in direzione di Firenze. Per le conseguenze dell'incidente code per traffico intenso anche in direzione opposta verso Roma. Sempre in A1 tra Sassomarconi, il BV1 variante di Valico, rallentamenti anche qui per un incidente in direzione Firenze. Passiamo alla Firenze, Pisa Livorno tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato. Ci sono materiali sulla careggiata in direzione Firenze. Veniamo ai treni, il 19.036 Siena-Empoli è stato cancellato da Granaiolo a Empoli. Viaggiatori con il 18.224 confermate straordinarie di Granaiolo e Ponte Aelsa. È tutto per il momento, muoversi in Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.